Hello guys, Ragnarona here e benvenuti in questo nuovo video in cui craftiamo un elettronic jetpack Lo mettiamo subito a caricare e si fa con questo crafting qui, molto semplice Avevo ormai ho risorse a strafriggere quindi è stata davvero una minchiata farlo Allora perché questo? Perché come già vi ho detto nella scorsa puntata andremo nel nether Quindi visto che devo sicuramente per andare a prendere dei blades sicuramente ci servirà e tornerà utile volare Allora ci equipaggiamo subito con questa cosa qui che ok Aia però cadendoci giustamente un po' ci facciamo male Quindi ok partiamo, nanosaber in mano, anzi spadina in mano, nanosaber ce la stipiamo Per oh 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 oh, ce la stipiamo per qualcos'altro Allora, vediamo eh, vediamo Questa ho delle, tanta robina bella Altra robina bella Ah, dannazione sono in peaceful, ecco perché Dicevo perché non ci sono mob Ehm Come al solito vi ricordo che sono, quando sono in peaceful è perché Sperimento qualcosa, qualche atrocità negli altri miei mondi single player Quindi ovviamente sono, ehm, come dire Ehm, preferisco non avere creeper che semmai distruggono quello che sto facendo Allora, me lo sono portato del cibo, vero? Sì che mi sono portato del cibo, bravo Renna Allora Minecraft mancava da un po' quello cos'è? La fusione tra un cavallo e un blaze O un cavallo blaze Hmm Vediamo Vediamo Sali Perché non sale più di qua? Oh Adesso non posso più attaccarlo Merda Perché c'è il pig zombie Se attacco il pig zombie poi mi vengono tutti addosso, giusto? Allora Oh Dio abbiamo fatto una cosa molto brutta guys Torniamo indietro, torniamo indietro Non mi sono salvato il posto Il punto Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Devo tornare a casa Devo tornare a prendere il portale nel nether Ok lo cerco e riprendo la registrazione Due secondi Ok come vedete ho messo il puntino E ritorniamo Allora Ci serve trovare una di quelle strutture Oh un ghast Fanchiulen Oh 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 Vieni qui Chi è che mi spacca tutto qui? No però No però Allora ho messo la lana sabre La lana sabre come vedete Sfonda tutto Tutti Ok tolgo un attimo il jetpack Anche se no ci facciamo male Ok Ehm La lana sabre è straforte È davvero forte Guarda qui Oh morto Morto Pig zombie no Sembra Pig zombie no Ho preso in mano uno scorpioncino Che figata Dobbiamo cercare Dobbiamo cercare Una di quei cosi La strani Di quei bastion La Di quelle Aia Di quei Di quei ritrovamenti Sperduti Mi serve qualcosa che mi da un blazer Ragazzi Dai dai Forza Redstone Redstone Tu cosa mi dai l'altra redstone Bravi bravi La redstone è sempre ben accetta Dalle mie parti Un altro topo Ho lasciato la sabre Allora La cosa brutta Lano sabre è che Se la lasciate Oh mio dio Allora Tanto mi raccolgo Un pezzo di questa sabbia qui E la scavo a mano Perché non ce l'ho Così la La facciamo imparare Alla nostra Transmutation table Se ci servirà mai Ok E la cosa brutta Lano sabre è che Si scarica Quando la tenete accesa Quindi È effettivamente Abbastanza Un dito su per il Retto Ecco Mettiamola così Retto mi sembra Un buon termine E Mamma mia Meno male col jetpack Meno male col jetpack Allora Però La cosa buona Non sei Berre invece Che ovviamente Si fonda tutto con un colpo Quindi Cioè Qualsiasi cosa avete Contro Tipo adesso mi serve Vado a uccidere quel gas Con il gas Mi sa che lo uccidiamo Con il gas Con questa Vieni qui Piccolino Ti faccio provare La potenza Della nano sabre Tutto sui dentini Yeah Che cosa bella Dai Dai Olè Renna Renna L'avrò vinta L'avrò vinta Renna L'avrò vinta Vieni qui Oh Sei morto Eh schifoso Bastardo Pure il topo Ok Io continuo a non trovare Uno di quei coazzi Di cosi Per prendermi Per trovare Blades Allora Facciamo un attimo No 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 Ok Ho trovato Una lacrima di Ghast Eh guys Io Mi sa che stacco Cerco sto Bastion E riprendo Quando l'ho trovato Dai senza Per non Ammorbarvi Le coconas A dopo Ok L'ho trovato L'ho trovato Vaffanculo L'ho trovato Allora Mi rimetto atto Il jetpack Perché mi sono lanciato No Non qui Qui Ok Perfetto Adesso Entriamo Cioè Cerchiamo I blades Allora Queste piante Del nether Ce le portiamo Penso proprio di si Cerchiamo un blades Allora Ci mettiamo Questa cesta qui E corricchiamo Allora Guys Era da un po' Che Cioè In realtà Sto mettendo anche Minecraft Qua sul Sul canale Sto alternando Così da Cercare di non Annoiarvi Qua no Non era Esattamente La via giusta E Sto cercando di non Annoiarvi Ho delle torce Perché mi sa che Voi non vedete un cazzo Mi sa E mi sa proprio di si Ok Le piazziamo Un po' A muzzo Così vedete Sicuramente E Comunque Stavo provando Anche molto più Battlefield Come avete visto Ho visto che Uno degli ultimi video Che avevo messo Di Battlefield Vi è piaciuto molto E Quindi Ho detto Vabbè Visto che Mi è stato richiesto Così tanto A questo punto Cerco di Farne un pochino Di più Perché Così Rendo tutti Più felici E poi A me Battlefield Mi piace molto Soprattutto Con le nuove mappe Oh Il blaze Ok No Merda 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 Ah giusto che Ho la quantum suite Giusto che ho la quantum suite Ho messo in pausa Perché Quando cado nella lava Lo faccio in automatico Dovrei mettermi sopra il coso Ok 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 Ehi Ah Spegniti Bravo Cioè io mi sono buttato proprio 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 sì Proprio della serie Voglio morire Allora come Ah ma ce la fa ad arrivare fino a qua Ce la fai ad arrivare fino a qui Sì ce la fai Ok Fermi Fermi tutti Ho un'idea Facciamo così Voi non sapete Avete visto perché mi volevo fare Quando mi sono fatto la suite qua Oh Bravo blazettino No Non mi ha dato il blazer Come ho fatto a prendere questo fuoco così Che cazzo serve fuoco così Vabbè Allora mettiamo un attimo Qualcosa Tipo questi brick qui Così Ce ne prendiamo un po' Che ci servono Ok E continuiamo E continuiamo Allora 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 ci sono degli scorpioni Va Vabbè Ci rimettiamo la nostra nanno Saber in mano Oh eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo Eccolo lì Oh No 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 Vieni qui Perché io devo Devo combattere contro Dai vieni qui Vieni da papino Vieni da papino Vieni da papino Sì Sì Eeeh Ma dai Eh però Non si fa così Cioè Dov'è il jetpack Ok Oh Uno slime di fuoco Uno slime di fuoco Ok Ok Ciao slime Su Ok Questa ci potrebbe essere Potrebbe essere interessante Lo slime lo uccidiamo La spada normale Perché Tanto crepa fast Allora Di qua c'è un sacco di lava E un mob spawn Un mob spawner Indovinate di cosa Indovinate di cosa Ma che culo Che culo Che culo Questa la chiamo proprio Scullata pesante Uno spawner di blades Questa ce la segniamo anche Allora Scavichiamo tutto Qua rompiamo tutti i mattoncini Tutto 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 Via 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 Eeeh Oh finalmente la blaze Una blaze road Ok 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 Allora segniamoci Qui Oh Oh Cioè vieni qua Ok La segniamoci qua Con C Spawner Blades Ok Perfetto E qua sta suonando tutto Io penso che Ce la siamo girati un bel po' Ce la siamo girati un bel po' Vediamo se c'è qualcosa Altro di interessante Poi come avete sentito Poco fa Eeeh La sveglia lì è suonata Quindi il nostro tempo A disposizione Che è finito Io mi faccio Un'altra saltata Col jetpack di là Vediamo se c'è qualcosa Di interessante Da questa parte Qui E poi spacchiamo così Entrava proprio Forza bruta Ah qua ci eravamo già passati Perché ci sono le torce Ah qua proprio Dove siamo scesi Ah perfetto Perfetto Allora ci prendiamo Anche questa terra Questa sabbia Questo soul sand Prendiamo tutto Salgo qua su Oh 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 Salgo qua su Uccidiamo questo topo Ci prendiamo questa red Ok guys Allora Visto che il nostro obiettivo Le blaze rod Sono arrivate Fortunatamente Posso chiudere qua il video Quindi Vi rimando al prossimo video Enjoy Ecco la renna sia con voi Bye bye Ah si Lasciate un mi piace E un commento Ricordatevi Grazie a tutti Grazie a tutti